L'unica ricetta per contrastare la crisi è la creazione di posti di lavoro. Questi sono stati anni di politiche sbagliate in Italia e in Europa, con l'idea che la crisi si combatte con la riduzione degli investimenti pubblici invece di allargarli. Così la potenza è il segretario generale della CGL, Susanna Camusso, che ha partecipato ad un convegno nel campus dell'Università della Basilicata. Bisogna creare occasioni di lavoro perché il dato che determina anche un'ulteriore contrazione della domanda e la preoccupazione a fronte di più di 3 milioni di disoccupati e soprattutto dell'assenza di una prospettiva per i giochi. Nel suo intervento la Camusso ha poi evidenziato la necessità di un nuovo ruolo dell'Italia in Europa. Bisognerebbe anche notare le contraddizioni perché tra la politica declamata dall'Europa e quella fatta dai singoli paesi, se chiamiamo la Germania per esempio, ha molto investito invece in termini di formazione, cultura, istruzione e di investimento pubblico. E allora bisogna, come abbiamo in tante occasioni detto, fare due scelte. Una è quella di abbassare la tassazione sul lavoro e sulle imprese, legandola a un criterio di investimenti e di occupazione. Infine, prima di fare tappa a Matera, un accenno alle politiche della nuova giunta regionale. Beh, CGL e Gisleville in questa regione hanno presentato già durante la campagna elettorale un piano del lavoro. Crediamo che la prima priorità per questa regione debba essere quella di confrontarsi su questo tema.